In questa edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Salgono a 600 i ricoveri per Covid negli ospedali delle Marche. In aumento i pazienti in terapia intensiva, 10 le vittime in 24 ore, più di 500 i nuovi contagi. No agli ospedali unici nelle Marche. Arriva lo stop dal Consiglio regionale. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci promette battaglia e annuncia che domani sarò il Ministero della Salute. Sono 10 gli hotel Covid nelle Marche per l'isolamento dei positivi al virus. L'assessore Stefano Guzzi spiega che tre non erano idonei. Per Pesaro Urbino salta l'ipotesi dell'hotel Plaza. Bambini in classe con la mascherina. L'avvocato Orciani contesta il decreto del governo. È illegittimo e malinterpretato se distanti e seduti al banco la possono abbassare. Stanno per finire le stacche di plasmi iperimmune per la cura contro il coronavirus. L'appello di Avisfano e del sindaco Serie a pazienti guariti. Venite a donare. Aiutateci a salvare le vite. Quasi mille interventi in più e 900 persone che hanno chiesto aiuto. La metà sono italiani. La Caritas Diocesana illustra i dati sulla povertà riferiti allo scorso anno. Addio ai parcheggi a Spina di Pesce a Sassonia di Fano. Più spazio e a pedoni ciclisti in Viale Dante Lighieri e limite di velocità ridotto per le auto. Un cordiale saluto dalla redazione. Bentornati sul canale 17 di Fano TV. Anche oggi nelle Marche si registrano 10 decessi legati al coronavirus. Lo rende noto il servizio sanità della regione. Si tratta di tre uomini e sette donne di età compresa tra 76 e 97 anni. Tutti con patologie pregresse. Tra le vittime c'è anche un uomo di 83 anni di pergola deceduto all'ospedale di Pesaro. I positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 504. Pari al 35,3% degli oltre 1.400 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Il maggior numero di positivi è stato registrato nella provincia di Ascoli Piceno. 141 seguita da quella di Macerata con 134, quella di Ancona con 102, 70 nella provincia di Pesaro Urbino, 40 nel Fermano e 17 da fuori regione. I ricoveri salgono a quota 610 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 75, mentre quelli in semi intensiva 149. E adesso torniamo a parlare degli ospedali unici. Ieri sera il Consiglio regionale ha approvato una risoluzione che sospende tutti i provvedimenti in corso per realizzare i nuovi ospedali, compreso quello di Pesaro. E quindi il sindaco Matteo Ricci attacca la giunta e promette battaglia. No agli ospedali unici aveva assicurato in campagna elettorale e ribadito nei giorni scorsi su Fano TV l'assessore a lavori pubblici con delega all'edilizia sanitaria Francesco Baldelli. Ieri sera è arrivata la conferma, con la risoluzione approvata in Consiglio regionale grazie ai voti dei partiti di maggioranza e del Movimento 5 Stelle. Stop a tutti i provvedimenti in corso per realizzare nuovi ospedali unici provinciali. L'obiettivo, come precisato nell'atto, è quello di valorizzare una rete ospedaliera diffusa sul territorio. Mai avrei potuto pensare, ha commentato Baldelli, che a solo un mese dall'insediamento le battaglie di decenni a tutela della sanità pubblica e dei nostri ospedali si concretizzassero. Nei giorni scorsi, ricorda l'ex sindaco di Pergola, il presidente Acquaroli e la Giunta avevano già dato precise indicazioni al mio ossessorato e a quello della sanità di sospendere gli iter procedurali e di redigere un nuovo piano sanitario. Richiesta subito inoltrata, poi ieri l'approvazione a Palazzo Raffaello. È una prima battaglia vinta, ha scritto in un post pubblicato su Facebook. Sfuma quindi anche il project financing, il progetto di finanza per il nuovo presidio di muraglia dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, promette battaglia e annuncia un incontro a Roma con il ministro Roberto Speranza. In tutta Italia si ragiona di come aumentare gli investimenti pubblici sulla sanità. E che cosa fa la nuova Giunta regionale nelle Marche? Prova a cancellare un investimento da 250 milioni sulla nuova struttura ospedaliera tra Pesaro e Fano della quale discutiamo da 30 anni. È una cosa inaudita. Noi abbiamo bisogno di rafforzare sicuramente la sanità dell'entroterra, magari attraverso le risorse del MES, ma abbiamo bisogno di un ospedale innovativo, moderno per tutti i cittadini della provincia di Pesaro Urbino. Perché chi non trova risposta qua non va a Pergola, come qualcuno crede, ma va in Emilia Romagna aumentando la mobilità passiva. Noi daremo battaglia, non accettiamo un atteggiamento anti-Pesaro e anti-provincia di Pesaro Urbino da parte degli eletti nel nostro territorio. Domani sarò al Ministero della Salute e la prossima settimana chiesse un incontro urgente al Presidente Acquaroli. E dopo le affermazioni del Sindaco sono intervenuti il Commissario Riccardo Augusto Marchetti e il gruppo consigliare regionale della Lega. Ricci si rimetta subito in tasca il ditino con cui accusa la maggioranza regionale di lavorare contro Pesaro e il suo territorio, si legge in una nota. Ci vuole la faccia tosta a fare il difensore della sanità territoriale dopo che lui è il PD, di cui è uno tra i massimi dirigenti, l'hanno smantellata presidio dopo presidio per svenderla con discutibili operazioni di project financing. La Lega prosegue la nota con la sua risoluzione per il no. Gli ospedali unici ha rappresentato la volontà espressa con il voto dai marchigiani stanchi di essere abbandonati al loro destino di malati di serie B. E sull'ospedale unico, su quanto deciso ieri sera dal Consiglio regionale, Letizia Marchionni ha sentito il parere dei fanesi. Ieri è stata approvata da Quaroli una risoluzione per bloccare la realizzazione dell'ospedale unico. Che cosa ne pensa? E' contro, sì. Io sono per l'ospedale unico, ma noi tutti lo pensano così. Ma tu immagini questi qui di Pesano, di Calcinelli, di altre zone, di Rosciane, altre no. Che fanno? Debbiamo andare una a Fano, una a Pesano? Bisogna salvaguardare tutto il territorio, io penso anche nell'entroterra. Gente dell'entroterra deve avere il servizio più vicino possibile. Poi dopo le priorità vanno dove c'è le cliniche specializzate, chiaramente. Pensavo fosse meglio avere un unico ospedale come Torrette per Ancona, diciamo, perché è più specializzato. Però, visti i problemi creati poi con il Covid, la questione che tutti gli ospedali erano chiusi, che non c'erano terapie adatte, forse è da rivedere questa cosa. Penso che ripristinino gli altri piccoli ospedali, come fosse Ombrone, li riqualificano. Con il Covid hanno dovuto riaprire, hanno dovuto fare dei nuovi ospedali che c'erano sul territorio, sia a Fano, che a Mondolfo, quell'altro. Servivano bene, l'ospedale è unico, non serve a niente. Cosa andrebbe via dopo l'ospedale di Fano? L'ospedale di Pesano non esisterebbe più. Metta che ci sia un'altra pandemia come il Covid. L'ospedale è unico, risolve tutto. Siccome ce ne sono tanti, hanno speso un sacco di soldi per metterli a posto anche Fano, specialmente a Pesano lo stesso, hanno fatto un sacco di lavori, non ho capito perché questi dopo che fine fanno? Secondo me in queste cose l'equilibrio è importante, quindi ci vuole sia una sanità dei centri specializzati dove sia possibile fare degli interventi specializzati, quelli possono essere anche uno per provincia, però ci vuole anche una capillare di fusione della sanità, servizi molto operativi, soprattutto in una regione dove le città più importanti sono sulla costa. C'è la costa e poi c'è tutta un'entroterra che è chiaro che servono. Al contrario, anche se l'ospedale unico deve essere messo in rete con tutte le realtà territoriali, rischiare di chiudere l'azienda ospedaliera, credo che lei si riferisca a Pesano, significa fare una sanità del terzo mondo. E adesso passiamo agli hotel Covid nelle Marche perché dei 13 alberghi che erano stati individuati dalla giunta regionale, soltanto 10 sono risultati idonei. Uno è in provincia di Pesero Urbino. Sono stati individuati i 10 alberghi nella regione Marche per garantire l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria dei soggetti Covid positivi che non hanno bisogno di cure ospedaliere e che non possono effettuare l'isolamento nella propria abitazione. Lo ha annunciato l'assessore alla protezione civile Stefano Guzzi grazie ad un accordo con le associazioni di categoria. Di queste, dopo il sopralluogo di verifica da parte del personale Asur, 10 sono risultate idonee. Con questa disponibilità potremo alleggerire i reparti e tutti i pronto soccorso degli ospedali, lasciando spazio ai casi più gravi e garantendo un ambiente confortevole e protetto a chi invece, pur essendo positivo, non ha bisogno di essere ricoverato ma non può rientrare nella propria abitazione per vari motivi come la mancanza di spazi separati dal resto della famiglia o la presenza di soggetti fragili in casa. Gli alberghi saranno scelti in base alle esigenze segnalate dall'Asur Marche sia in termini di capienza che di area di riferimento. Per ora ne sono stati contrattualizzati due per un totale di 104 posti letto. A Senigallia l'hotel Atlantic, che servirà la zona del centro-nord delle Marche, e a Monte Cassiano l'hotel Recina, che servirà il centro-sud della regione. Domani, conclude l'assessore Aguzzi, è previsto l'ingresso dei primi 15 ospiti. Se sarà necessario, quando avremo riempito al 75% i due alberghi, procederemo ad ulteriori contratti e così via per evitare uno spreco di risorse finanziarie. Oltre ai due hotel già citati, ci sono altre strutture per un totale di 533 posti letto in tutta la regione. Per la provincia di Pesaro Orbino, invece, sarà a disposizione l'hotel di Baia Flaminia a Pesaro. E continuano le polemiche e i dubbi sull'obbligo di indossare le mascherine in classe per gli alunni delle scuole elementari e medie. Oggi Angelica Panzieri ha intervistato l'avvocato Orciani, che ritiene il DPCM illegittimo e male interpretato. Sentite perché. Le mascherine da indossare in aula anche durante la lezione per i bambini dai 6 anni in su fanno ancora discutere. Non si placano le polemiche sulla nuova decisione del governo, che questa settimana è diventata operativa. Tanti genitori che si sono opposti, sostenendo che quel DPCM sarebbe stato malinterpretato e che non comporterebbe appunto questo obbligo. Una battaglia intrapresa anche dall'avvocato di Pesaro Giovanni Orciani, che in qualità di papà ha voluto inviare al Consiglio d'Istituto della Figlia un ricorso per impugnare la circolare del Ministero dell'Istruzione, che impone l'uso delle mascherine sui banchi. La circolare fa riferimento al comma 1 lettera S del nuovo DPCM, la quale dice semplicemente che l'attività educativa per la scuola dell'infanzia continua a svolgersi in presenza con l'uso delle mascherine obbligatorie. I DPCM di per sé sono atti amministrativi che non hanno alcun valore di legge. Hanno valore di legge solamente nel momento in cui un decreto legge che ci sta a monte gli legittima la possibilità di legiferare. Ora, questi protocolli sono stati fissati da un comitato tecnico-scientifico nell'agosto di quest'anno, il quale prendendo a riferimento si legge proprio una situazione che è molto simile per l'altro a quella attuale. Nelle raccomandazioni tecniche stabilisce che i bambini in una situazione di staticità seduti al banco con il rispetto della distanza di almeno un metro messo possono abbassare la panscherina perché siamo in una situazione di assoluta tranquillità. Leggere così in maniera sporadica questo articolo 1,9 lettera S semplicemente perché dice che è obbligatorio l'uso è sbagliato. Anche perché vorrebbe dire in questo modo inserire un obbligo di legge legislativo senza che ci sia la legittimazione a monte del decreto legislativo che lo consente. Quindi sarebbe illegittimo perché, ripeto, al di fuori di quello che gli consente il decreto legge il DPCM rimane un atto amministrativo che non ha alcun valore di legge. E quello è un fastidio che porta a un calo di concentrazione che è del tutto inutile perché se qualcuno mi dice che da un punto di vista scientifico in forza del quale noi dovremo adesso in questo momento derogare perché un DPCM dice semplicemente che la scuola dell'infanzia dovrà continuare a svolgersi in presenza con l'uso delle mascherine dovrà derogare a quanto è stato stabilito fino adesso. Cercare di capire, qui stiamo parlando dei bambini e della salute dei bambini, veramente se questa è una misura assolutamente indispensabile, irrinunciabile o è un qualcosa sul quale invece ci si può ragionare. Perché se noi continuiamo a valutare questi protocolli che vengono adottati non in relazione al fine che devono raggiungere che è la prevenzione eccetera diventano protocolli fini a se stessi che non servono a niente e in più possono essere dannosi perché di poi detto hanno influenza sulla salute delle persone. E prosegue l'impegno delle fondazioni casse di risparmio di Fano e Pesaro a fianco della sanità locale per affronteggiare la seconda ondata della pandemia Dopo le attrezzature medico-diagnostiche fornite ad aprile alle quattro USCA le unità speciali di continuità assistenziali le due fondazioni hanno aderito alla richiesta dell'area Vasta 1 di provvedere anche alla dotazione delle tre nuove unità di prossima attivazione Il numero delle USCA è stato infatti potenziato da 4 a 7 due per i distretti di Pesaro, Urbino e Fano e una operante nelle RSA con l'obiettivo di decongestionare le strutture ospedaliere L'importo stanziato è di 19.000 euro e sarà destinato all'acquisto delle attrezzature appunto delle nuove unità E c'è carenza di personale nei centri trasfusionali lo fa sapere il presidente di Avisfano Marco Savelli che insieme al sindaco Massimo Seri lancia anche un appello per le donazioni di plasma iperimmune utilizzato per curare i malati di Covid-19 È una terapia sperimentale che ha dato ottimi risultati nella cura dei pazienti affetti da coronavirus ma il plasma iperimmune inizia a scarseggiare così come i medici e i tecnici nei centri trasfusionali A lanciare un appello oggi è stato il presidente di Avisfano Marco Savelli che nella sede di via San Francesco insieme al direttivo ha consegnato una benemerenza al sindaco di Fano Massimo Seri, ex presidente dell'associazione che ha superato le 80 donazioni di sangue plasma È per me motivo di orgoglio e vuole essere anche un esempio per tante persone Fano è una città molto sensibile per quello che riguarda la donazione perché negli anni sono stati tanti le cittadine e i cittadini che sono diventati donatori e hanno donato tanto però ecco l'occasione è anche per fare un appello a tutti i concittadini Stiamo attraversando un momento difficile, pensiamo tutti al covid ma le altre malattie non si sono interrotte quindi c'è bisogno ancora di assistenza e non dimentichiamoci che il sangue è un farmaco salvavita che non può essere prodotto in laboratorio può essere solo donato ed è importante che le persone lo facciano allora ecco fate come ho fatto io in questi anni, come ho già prenotato la prossima donazione invito tutti coloro che possono farlo, di fare questo gesto che è un gesto straordinario ma sapendo che si fa veramente il bene di altri e in alcuni casi si salvano veramente delle vite Di fronte al monumento alla vita nella piazzetta donatori di sangue Marco Savelli ha poi annunciato importanti novità su plasma iperimmune considerato come uno dei trattamenti più efficaci per combattere il virus grazie agli anticorpi presenti nei soggetti guariti dal covid per maggiori dettagli sulle donazioni si può contattare la Visfano a questo numero di telefono nei giorni scorsi, fa sapere il Presidente, la Commissione Europea ha approvato un progetto che coinvolge 13 regioni italiane, tra cui le Marche, per aumentare la produzione di plasmi per immune l'iniziativa ha un duplice scopo di garantire il trattamento al maggior numero di pazienti nelle diverse fasi cliniche e di sviluppare monoglobuline per la terapia e la profilassi passiva di soggetti più esposti o fragili Il primario dottor Carlo Pazzaglia ci ha comunicato che le sacche prodotte dai nostri donatori dai nostri pazienti donatori nel mese di aprile e maggio stanno quasi terminando proprio per questo principio di solidarietà che è Avis che contraddistingue la nostra associazione Avis a livello ampio, a livello nazionale e anche a livello regionale, non solo locale queste sacche sono finite presso gli ospedali della nostra regione prevalentemente Fermo e Ascoli Piceno anche perché loro nel periodo di marzo hanno avuto meno pazienti donatori rispetto a noi quindi vogliamo mandare un messaggio a tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid e in questo momento stanno finendo la loro degenza dalla malattia di avvicinarsi alla donazione del plasmi per immune perché ancora di più è importante in questo periodo veramente complesso dovuto a questa birichina malattia quindi avvicinati anche coloro che non sono ad oggi donatori siete stati colpiti dal Covid, venite a donare il plasmo per immune perché è veramente una malattia salvavita E andiamo avanti con la cronaca un incidente si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 14 nell'incrocio tra via Fragheto e via del Ponte nel comune di Fano secondo una prima ricostruzione della dinamica pare che si sia trattato di una mancata precedenza un fanese di 43 anni era la guida di un Audi quando una volta arrivato all'incrocio non avrebbe rispettato lo stop in quel momento stava sopraggiungendo una Ford C-Max con a bordo un 29enne originario di Napoli ma residente a Fano e l'urto è stato inevitabile il giovane che è rimasto ferito è stato trasportato dal 118 al Santa Croce di Fano ma non è in gravi condizioni sul posto la polizia locale per i rilevi di legge Cambiamo argomento la Caritas Diocesana ha fatto un bilancio dei dati sulla povertà riferiti allo scorso anno 5.800 sono gli interventi eseguiti e quasi 900 le persone che hanno chiesto aiuto alla metà sono italiane Quasi mille interventi in più rispetto al 2018 con un aumento di volontari e di persone in difficoltà è stato illustrato questa mattina il report povertà e risorse della Caritas Diocesana l'iniziativa è avvenuta in occasione della giornata mondiale dei poveri intitolata Tendi la tua mano al povero che verrà celebrata domenica prossima a presentare i dati il vescovo Armando Trasarti il direttore della Caritas Diocesana Angiolo Farnetti insieme a Stefania Poeta e Michela Pagnini purtroppo ha spiegato Farnetti quest'anno non sarà possibile proporre momenti di incontro e di solidarietà a causa della pandemia ma abbiamo predisposto suggerimenti e materiali come questo documento per favorire la riflessione personale e comunitaria in base al quadro riferito allo scorso anno sono 889 le persone che hanno chiesto aiuto il 15% in più rispetto a due anni fa quindi un aumento di 137 persone famiglie che sono tornate fino a 3720 volte una media di circa 4 passaggi ciascuna per alcuni si è trattato di un incontro occasionale per altri è iniziato un percorso quasi la metà sono cittadini italiani mentre il 55% sono uomini singoli o capi famiglia tutti pronti ad essere accolti dai 46 volontari giovani in servizio civile coordinati e affiancati dagli operatori in aumento di conseguenza anche le ore di volontariato oltre 5.000 gli interventi registrati per un totale di circa 5.800 hanno pesato sull'intero bilancio per 326.600 euro un'attenzione inoltre rivolta al centro salute che sta diventando un servizio indispensabile per chi ha problemi economici e chi è totalmente escluso dal servizio sanitario nazionale nel 2019 sono state 54 le persone aiutate 39 in più rispetto all'anno precedente durante la conferenza stampa avvenuta online il vescovo si è collegato per un breve saluto iniziale il report ha sottolineato Trasarti non è ostentazione di quello che si fa ma è il tentativo di leggere il territorio al fine di aiutare la chiesa e il mondo civile a creare sinergie per offrire servizi bisogna parlare della carità con umiltà Farnetti invece ha ringraziato per il supporto tutti coloro che nel silenzio e con sacrificio continuano a lavorare in Caritas e chi con lotto per mille con offerte ed erogazioni liberali o con un contributo economico legato ai progetti ha permesso di sostenere chi più ne ha bisogno Novità e modifiche in vista per i parcheggi di Viale Dante Alighieri a Sassonia di Fano vediamo allora di che cosa si tratta e quali saranno gli interventi previsti nel servizio di Filippo Pucci Parcheggi a spina di pesce lungo Viale Dante Alighieri addio l'amministrazione comunale di Fano dopo le numerose richieste dei residenti ha pensato ad una nuova disposizione delle soste auto a partire dalla prossima stagione estiva Via Dante Alighieri è letteralmente invasa dalle auto questo cosa vuol dire? vuol dire che sia a destra che a sinistra ci sono parcheggi selvaggi a spina di pesce e la velocità è veramente alta delle auto che percorrono questa via noi vogliamo riequilibrare gli spazi cercando di dare più spazio ai piedoni soprattutto ai piedoni ai ciclisti e regolamentare quindi la sosta per le automobili attualmente abbiamo una corsia di 5,50 m noi andremo a ruotare i parcheggi mettendoli in linea sia a destra che a sinistra creando quindi liberando spazio lato mare un percorso pedonale più piccolo mentre invece lato monte ci sarà un percorso di circa 3 metri lungo tutta la sezione un pochino di più un pochino di meno di 3 metri considerando anche la presenza dell'albero quindi sarà un percorso pedonale più largo e quello ciclabile invece per ora abbiamo intenzione di far passare le biciclette insieme alle automobili perché questa sarà una zona 30 quindi la velocità delle auto sarà ridotta in teoria si dovrebbe ridurre già con la presenza delle automobili parcheggiate a destra e sinistra le macchine dovrebbero andare più piano e quindi la bicicletta può percorrere insieme all'automobile lo stesso percorso con questo importante intervento che vedrà la luce agli inizi del 2021 si migliorerà la sicurezza di tutto il viale con un occhio di riguardo anche per ciclisti e pedoni che attualmente sono costretti ad occupare l'intera carreggiata per colpa delle auto parcheggiate selvaggiamente questo intervento dà ordine alla situazione un po' selvaggia che in questo momento vive via Dante di Ghieri porta a giovamento i residenti che avranno una situazione un pochino più migliorativa un pochino più decorosa non andiamo a fare degli interventi importanti sui marciapiedi perché in questo momento non riusciamo a ricreare un marciapiede ma andiamo a dare decoro a tutta quella zona ripulendola risistemando la banchina con questo stabilizzato più duro più compatto in modo che sia percorribile bene anche dai diversamente abili e appunto andiamo a rifare tutta la segnaletica verticale e orizzontale con queste modifiche e questa sera chiudiamo il nostro telegiornale facendo gli auguri a Elpidio Calcagnini di Terre Roveresche che oggi compie 100 anni Elpidio, nato a San Giorgio di Pesaro il 10 novembre 1920 è stato anche sindaco di Piagge dal 52 al 56 il segreto della longevità svelato sta nel lavoro infatti tutti i giorni il centenario si reca nel suo laboratorio da falegname e si prende cura dell'orto e del pollaio gli auguri sono arrivati anche dal sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli mediante questo riconoscimento con su scritto uomo ammirevole, semplice e doperoso nella cui esistenza è racchiusa la forza l'intraprendenza e l'identità della nostra comunità ancora oggi pieno di entusiasmo e di fare nuovi progetti e gli auguri ovviamente anche da parte di tutto lo staff di Fano TV Tra poco trasmetteremo una nuova puntata di Guarda a chi c'è condotta da Paolo Notari e dedicata all'arte per il telegiornale invece è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata arrivederci